Sto cercando di usare tutte le mie skill di terraria per vincere, cioè zero Ragazzi, ma gli altri mi vedono, sì o no? Non capi... Ragazzi, è spawnato Vodafone, team! Raga, facciamola ignorante proprio, quindi non so, potrebbe staccare dei blocchi sotto ma siccome io sono bravo non li stacca Perché io... cioè... cioè raga Se queste prove morissero mi danno... sto coniugando malissimo i verbi, fantastico Non chiedevo di meglio, vabbè poi li sposto, ora non ho... Ho ucciso... ho ucciso un povero uccellino che era nella mia traiettoria, poverino Sì, una dinamite solo per questo pezzo Mamma mia Ok Fantastico Ehm... quello... Ehm... io non c'entro niente, eh, io non c'entro niente Vengono ammazzati E ci droppano Ehm... io non c'entro niente No, aspettate un attimo raga, ho letto qualcosa La costruzione Ehm... eccola raga Cosa c'era in mezzo? Non ho fatto tempo a vederlo che l'ho già ucciso, uoh Comunque, dov'era questo NPC? Ehm... eccolo qui Lo spiritualist Andiamo subito da lui Perché questa gente è verde Questo qui deve morire Dimmi che è morto il girasole di merda Vaffanculo, vaffanculo E ho trovato anche la Crimson Key Per una volta che riesco a trovare questa chiave Sono Summoner Grazie Terraria, grazie Perché effettivamente raga, questa è una cosa molto, molto, molto sensata Io, guardate raga Se si mettono pure a sparare magie Cioè Mi dai un minuto Devo solo fare l'outro, devo finire Sono un po' di schiaffi Dai, dammi un minuto Mi fai fare questa cazzo di outro? No, vai fuori, mi vergogno Voglio assolutamente avere due treasure bag Almeno abbiamo il doppio delle cose Tomevochiamolo anche qui Proprio Cosa cazzo Mi è saltato in testa Sono un pirla Sono un cazzo di pirla Ah, ah, ah Oddio Mi sono appena svegliato Quindi ho un deficiale Parole assurdo Non riesco a articolare bene le parole Sì ragazzi, non è normale Comunque ho un po' di ritardo mentale Ma tranquilli Tranquilli A quest'età succede Titanium Forge Eccola qui Fantastico Possiamo fondere le barre 70 minimo Poi qua abbiamo un Zephyron E un Necronomicon Non avevo ancora letto il nome Perché era troppo lungo Ma ora sono stato costretto a farlo Ma che cazzo Ma Ma